E ci siamo finalmente sappiamo quanti punti la Juventus avrà di penalizzazione perché finalmente sono arrivate le richieste di Kine che diciamola tutta questa volta si è superato e si è superato per davvero perché l'ultima volta aveva chiesto 9 punti di penalizzazione che poi sappiamo tutti il giudice portò a 15 per sua scelta e per suo volere questa volta si supera per davvero. Benvenuti a tutti in questo video se ancora non siete iscritti e molto probabilmente siete nuovi sul canale prima di iscrivervi al canale vi invito sempre a guardare qualche contenuto precedente se vi piacciono allora vi iscrivete e attivate la campanellina perché è molto importante mi raccomando però iscrivetevi guardatevi i contenuti e iscrivetevi perché in ogni video c'è circa il 70% di voi che guarda i video e non si iscrive iscrivetevi è totalmente gratuito se continuate a seguirmi non vedo perché non dobbiate farlo. Detto questo condividete facciamolo sapere a tutti i nostri amici giuventini quanti punti abbiamo preso di penalizzazione e commentatemi qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo a quello che è stato fatto. L'ennesima scelta che è stata fatta. Andiamo a leggere la notizia perché di oggi la sentenza sulle plusvalenze la procura della FIGC chiede 11 punti di penalizzazione ma non solo perché 11 punti di penalizzazione e 8 mesi di inibizione per i tesserati. Queste sono le richieste da parte della procura generale della FIGC a carico della Juventus avanzate durante la nuova udienza della corte d'appello federale per il caso plusvalenze. Chiamata a rideterminare l'entità della sanzione di meno 15 punti di penalizzazione combinata a gennaio da Kine e dal giudice che naturalmente ha rilanciato come una partita a carte. Perché vi ho detto che questa volta Kine si è superato? Perché è evidente, è una cosa di matematica. Se ne aveva chiesti 9 prima e sappiamo tutti che quando uno accusa un altro parte sempre con la richiesta di pena più alta perché poi naturalmente si va a ricalcolare la pena. Già Kine era partito alto, il giudice gli ha fatto capire che era andato troppo basso e ha rilanciato però erano troppi i 15 punti. Allora qualcosa si doveva fare, nonostante il fatto che questo processo sia stato smontato pezzo per pezzo da svariati giuristi e non di fede. Giuventina, l'abbiamo sentito tanti di noi a Juventibus, vari legali di diritto sportivo e non solo, che hanno detto che questo processo fa acqua da tutte le parti ed è legittimo. Kine chiede 11 punti di penalizzazione, guarda caso, giusto giusto, i punti che servirebbero perché ormai mancano solo tre partite alla Juventus ma due alle altre squadre per tenere fuori definitivamente la Juventus dalla Champions League. Attenzione perché in Europa League ci andrebbe ancora. Quindi si supera, si supera davvero in questo caso Kine perché riesce a farsi anche un calcolo mentale di quanti punti dovrebbero servire. Chi diceva 6, chi diceva 8, chi diceva 9. Noi sapevamo tutti che se non fossero bastati 10 punti ne avrebbero dati di più e infatti così è stato. Colpa di chi? Colpa nostra che contro Sevilla dovevamo dare l'anima per portare a casa la vittoria e soprattutto la qualificazione e invece non l'abbiamo fatto. Dandogli a loro questa arma, questo diciamo hanno il coltello da parte del manico e tu non puoi dire niente. Sappiamo quindi state tranquilli che la Juventus farà ricorso al 100%. Molto probabilmente andrà di nuovo al Coni per poi passare al Tar. Io mi auguro invece che vada direttamente al Tar anche perché questa è diciamo una buffonata oltre ogni limite. Staremo a vedere come si svolgeranno i fatti. Io vi terrò informato naturalmente per quanto riguarda questa situazione. Mi raccomando condividete, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate perché è veramente impressionante. Tanti di voi e io pure l'ho detto nei video precedenti però la puntualità con cui sono stati dati questi 11 punti che ci vanno a mettere teoricamente fuori dalla Champions League diciamo che è degna di un vero orologio svizzo. Quindi chi ne si è davvero impegnato. Ora vediamo la Juventus che cosa farà. Ripeto, a mio modo di vedere deve andare al Tar. Queste erano le informazioni per quanto riguarda i punti di penalizzazione che vogliono infliggere alla Juventus la parte di chi ne è di tutta la ciurma della ormai federazione inter gioco calcio. E niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete arrivati fino a qua. Siete dei supereroi. Io non so se ridere o se non lo so essere arrabbiato o no perché me lo aspettavo. Però non mi aspettavo una cosa del genere. Quindi condividete, commentate, un bel like. Io vi saluto. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao. Aio.